Una pioggia di milioni per sviluppare ulteriormente i settori della meccatronica, dell'aerospazio e dell'information communication technology in Puglia. Le imprese continuano i loro investimenti grazie ai contratti di programma attivati dalla Regione. La Giunta Emiliano ha approvato tre nuovi progetti delle società Mermec Black Shape, di cui è patrono l'imprenditore monopolitano Vito Pertosa e Fincons. I tre investimenti sfiorano i 40 milioni di euro, concentrando la maggior parte delle risorse su ricerca e sviluppo. Meccatronica, Aerospazio e ICT, spiega l'assessore regionale allo sviluppo economico Loredana Capone, sono settori strategici che stanno sempre più sostenendo l'economia e le esportazioni pugliesi. Questi comparti hanno grande successo sui mercati esteri perché puntano moltissimo sull'innovazione, oltre che sull'internazionalizzazione. 29,6 milioni sono le risorse destinate a ricerca e sviluppo. La Mermec SPA, multinazionale pugliese della Meccatronica, leader mondiale nella diagnostica ferroviaria, con un investimento complessivo di 21,3 milioni di euro, di cui 10,27 di risorse pubbliche, amplierà l'unità produttiva esistente a Monopoli con nuovi prodotti, come i detector per i gas nocivi e per le sostanze radioattive. Dell'investimento complessivo, 16,3 milioni sono destinati a ricerca e sviluppo. Il progetto ha l'obiettivo di implementare sistemi diagnostici da installare a bordo di aeromobili, treni passeggeri e veicoli ferroviari speciali di misura e sviluppare ulteriormente un avanzato sistema di supporto alle decisioni, che sarà in grado di eseguire monitoraggi ambientali o di infrastrutture con particolare attenzione ai fattori rischio. La Black Shape SPA, impresa allo spaziale pugliese specializzata nella produzione di valivoli ultraleggeri da Diporto, investirà a Mola di Bari con un progetto da 12 milioni e mezzi di euro, di cui quasi 7,3 di contributo pubblico, per realizzare una nuova unità produttiva finalizzata alla produzione di servizi erogabili con lo sviluppo di una piattaforma aerea a tecnologie avanzate e di strumenti modulari che consentiranno di ispezionare aree di interesse e acquisire simultaneamente dati di misura. L'investimento in ricerca e sviluppo, pari a 7 milioni e mezzo di euro dell'investimento complessivo, permetterà la progettazione architetturale di un prototipo di valivolo con diverse caratteristiche, quali autonomia di volo e tipo di carico strumentale e lo sviluppo del prototipo. Fincons S.p.a., infine, industria milanese, con un investimento di poco più di 6,1 milioni, oltre a trasferire l'unità baresi in un'altra sede, nella stessa città, impiegherà in ricerca e sviluppo la maggior parte dell'investimento, quasi 6 milioni, per lo sviluppo di una serie di prodotti ICT innovativi nell'area della manifattura sostenibile. I contratti di programma della Regione Puglia sono gestiti dalla società regionale Puglia Sviluppo S.p.a., in qualità di organismo intermedio.